Qual buon vento ti può staccarti? Oh, ciao a tutti e benvenuti al 59esimo episodio di Giochi Brutti. Come si può vedere, questo è il primo video nella postazione nuova. È da terminare, è da continuare a riempire. Ovviamente una volta che sarà tutto terminato, non questa stanza ma tutto lo studio, vi farò fare un tour completo. Oltre a questo, ho anche la maglietta nuova presente sullo store di Parliamo di Videogiochi, che è sui misteri di Capri. Ovviamente molto in tema con l'episodio di oggi, dato che si parla del suo prequel, Anacapri The Dream. C'è un aneddoto molto divertente riguardante questo gioco, ovvero che il titolo non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte, quindi mi sono rivolto direttamente alla fonte. Sono andato sul sito degli sviluppatori, uscito direttamente dal web 2.0 all'inizio degli anni 2000 come stile e ho acquistato regolarmente Anacapri The Dream. Quindi metto nel carrello sia Anacapri The Dream che Puzzletrip to Napoli, che mi sembrava avere molto potenziale. Tutto ok, pago con Paypal. Dopo un paio di giorni mi arriva una mail da Giuseppe, uno dei due autori. Insomma, nella mail mi chiede quali giochi avessi acquistato. Io gli ho detto, guarda, ho acquistato X e Y, sembra quasi tipo come se stessi parlando effettivamente di Pokémon, e gli ho ricordato appunto che ho comprato Anacapri e Puzzletrip to Napoli. Ok, lui mi dice però, guarda che Anacapri esiste la copia fisica, che appunto è questa qui che ho adesso, Puzzletrip to Napoli in realtà mi sono rimaste soltanto le copie in digitale. Quindi diciamo che pagheresti di più. Eventualmente, se vuoi, per compensare a soli 7,50€ di più, posso aggiungerti anche The Capri Connection. Anche l'ultimo capitolo della trilogia. Al che dico, va benissimo, non c'è problema, aggiungo 7,50€ e aspetto. Allora, pensavo di aver fatto il colpo grosso, perché nella mia mente ho detto, oh che figo, ho preso Anacapri The Dream. Poi ho fatto I Misteri di Capri 2, quel che c'è in mezzo, I Misteri di Capri, The Capri Connection. Diciamo che così, ho completato il cerchio. Ho tutto, posso provare completamente, vediamo magari che giochi vale la pena dimostrare, provare e così via. Mi arriva il pacco e ho l'amara sorpresa, perché mi ero dimenticato di un dettaglio tanto semplice quanto importante. Nelle traduzioni dei titoli hanno fatto un pochino di confusione, perché The Capri Connection, senza numero, sarebbe I Misteri di Capri 2, che abbiamo già fatto in giochi brutti. Quindi mi sono ritrovato con una seconda copia del gioco. Penserete che sicuramente le sorprese saranno finite, invece no. Prendo Anacapri, lo installo, avvio il gioco e mi trovo davanti questa schermata, dove mi viene chiesto un codice seriale per poter riscattare il gioco. È un sistema molto semplice, antipirateria, cioè invii il codice che ti genera il gioco, dice di mandare una mail a caprichiocciolacaprisaga.com e aspettare risposta con il codice d'attivazione. Faccio quanto detto nel gioco, invio la mail, aspetta, 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 un giorno, tre giorni, cinque giorni, una settimana, due settimane, faccio... Vediamo se trovo qualche informazione utile, perché tra l'altro avevo anche mandato un'altra mail per sapere cosa fare, ma non ho avuto risposta. Quindi vado direttamente sul sito degli autori, dove nella sezione download trovo il download generatore di codici, dove praticamente nella descrizione hanno riportato che si erano in poche parole rotti di mandare codici, quindi hanno detto tenete questo è il generatore di codici, fatevi i codici da soli. Ok, però nella mail me lo potevate anche specificare. Vabbè, comunque non dilunghiamoci troppo nelle introduzioni, anche perché l'episodio di oggi, anzi gli episodi di cui vedrete il primo oggi, sono molto lunghi. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere com'è fatto Anacapri The Dream. Finalmente entriamo nel menu di gioco, lo stesso identico dei misteri di Capri. Inutile farvi vedere il menu funzioni, perché sono le stesse identiche dell'altro gioco. L'unico punto su cui mi vorrei soffermare sono alcune premesse alla fine delle istruzioni. Allora, il gioco non ha vicoli ciechi, comunque si faccia, si progredisce verso la soluzione. I percorsi verso la soluzione possono essere molteplici, ma infine convergono. Raga, fake, convergono un par di balle, sono stato ore a perdermi nei vicoli di Anacapri. Poi è stupendo come ti venga buttato lo spoilerone quando dice Conviene salvare il gioco prima di prendere una decisione importante. Ciò accade almeno una volta nel finale. Il che vuol dire, ok, fai come ti pare per tutto il gioco, però ricordati che quando arrivi al finale devi salvare. Vabbè, tolto questo, abbiamo un po' di feels dei misteri di Capri, dovuti al pippone sulla modalità passeggiata, dove puoi passeggiare in lungo e in largo per i luoghi reali e immaginari dell'isola di Capri, eccetera, eccetera. Attenzione perché è spoiler, eccetera, eccetera. E poi anche il menu dove troviamo i caricamenti riportati come Parti dal Salva. Che bello questo tramandare le approssimazioni da un gioco all'altro. Però adesso cominciamo che si è già fatto abbastanza tardi. Buono il caffè, vero? Il dottor Orlandi ha telefonato e ha lasciato questo biglietto per lei. Mi è sembrato di capire che avesse una certa fretta. Forse è meglio che si sbrighi. Mamma mia, che emozione. On the road again. Il biglietto del dottor Orlandi ci fa subito capire che il protagonista, Nico Fredi, è sempre lo stesso dell'episodio scorso e ci darà anche un'idea di cosa succederà in questo capitolo. Ciao Nico, grazie per essere venuto ad Anna Capri. Come forse avrai già saputo, ci sono nuove importanti notizie relative a quel famoso disco di Ossidiana. Citato anche nei misteri di Capri. Disco di Ossidiana di cui ti parlai tempo fa. Ti ho pregato di venire perché spero che tu ci possa aiutare a ritrovarlo. Raggiungimi a casa al più presto, approfondiremo l'argomento. Esci dal bar, gira a destra, prendi via Orlandi, poi ancora a destra per la chiesa di San Michele, casa mia e poco più avanti. Fa presto. Ah, dimenticavo, la notizia del tuo arrivo si è già sparsa per Anna Capri. Ti aspetto. Quindi per andare dal professore Orlandi, dobbiamo giustamente andare in via Orlandi. Ok, penso si sia già capito quale sia il grande dramma di questo gioco. Lo stesso che avevamo in quello precedente. La differenza è che in questo capitolo è tutto molto meno lineare. Nel senso che quando nel biglietto abbiamo letto le indicazioni, dovremmo letteralmente fare attenzione a dove camminare. Perché non è che ci troveremo giusto qualche passeggiata nelle viuzze qua e là. No, no, non affatto. Abbiamo mezzo paese completamente esplorabile in un sacco di vie. Dove ognuna ha almeno 20, 30, 40 foto di ogni via. E dove devi fare attenzione ad ingressi accessibili, curve, bivi, scale ed altro. Quindi anche un semplice raggiungere un luogo richiesto diverrà letteralmente un inferno. In quanto non ci sarà affatto alcun genere di sconto. Dobbiamo farci tutta la strada, foto per foto, senza alcun salto. Per farvi capire il dramma, vi dimostrerò quanto è stato difficile per me trovare casa del professore Orlandi. Tanto per cominciare mi sono completamente perso e ho ricominciato il percorso dal bar per almeno 10 volte, cercando sempre di riuscire a beccare la via giusta per trovare questa fantomatica casa che tra l'altro non sappiamo nemmeno com'è fatta. Una villetta, un appartamento, un negozio... non si sa. So solo che durante il mio tour tra le vie del paese ho scoperto un bel po' di posticini accessibili. Prima di tutto un negozietto di souvenir con una sciccosissima scritta cards dove, avvicinandomi, ho fregato una cartolina. Così, per cattiveria, senza motivo. Poi, sempre guidato da scritte strane, coloratissime, luminescenti, ho trovato il fioraio. Ci entreremo più tardi. E alla fine, dopo circa 35 minuti di registrazione, finalmente arriviamo a casa del signor Orlandi. Bene, ora però voglio dimostrarvi quanto sia stato complesso raggiungere casa sua quando in realtà bastava uno l'altro. E ve lo dimostrerò in maniera molto empirica. Io poi a questo punto ho voluto toccare con mano. Qui c'è il bar dove si spone, questa è a Piazza Vittoria, praticamente, dove finiremo ogni volta che useremo il teleport. E voglio proprio cronometrare quanto tempo si mette realmente ad arrivare dal bar a casa del dottor Orlandi. Tempo per arrivarci realmente poco meno di 5 minuti. Con mia grande sorpresa ho scoperto che lì non c'è la cassetta delle lettere ma il contatore del gas. Arriviamo a casa del signor Orlandi, ma a quanto pare, pur bussando, non c'è nessuno. Vabbè, andiamo da un'altra parte. Ah, è lei. Oh, madonna santa. Un po' in ritardo, eh. Che le devo dire? Mi dispiace. Il dottor Orlandi è già andato via. Aveva un impegno urgente e non poteva trattenersi oltre. Ha detto che tornerà alle 15.45 oggi pomeriggio. La aspetta per quell'ora. Ha lasciato una lettera per lei nella cassetta qui a fianco. Arrivederci. Ok, ricominciamo la solita routine alla misteri di Caprimaniera dove la gente ha sempre impegni ed è in giro e continua a lasciarci missive, oggetti, minacce, di tutto di più. Apriamo la cassetta della lettera e troviamo la lettera. Quest'ultima finalmente ci rivelerà un po' di plot. Assieme a questa abbiamo anche una targhetta che potrebbe sembrare molto complottata da come è scritta e recita. Il disco esiste e si trova a Capri. È nascosto nel luogo dove tutto ebbe origine. Il disco va trovato e distrutto. 2 aprile 1826. Mentre la lettera dice che ad Anna Capri si nasconde questo leggendario, preziosissimo e maledetto, aggiungo io, disco d'Ossidiana. Pare che questo disco sia passato per le mani di molti personaggi storici ma poi se ne siano perdute completamente le tracce. Recentemente è stata trovata una targhetta in marmo con su inciso una frase che fornisce una forte prova della presenza di Anna Capri. La targhetta risale al 1816 e proviene da una fonte senz'altro attendibile, eccetera, 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 eccetera. Quindi una targhetta di marmo random con su una scritta fatta con WordPad dove c'è semplicemente la data 1826 dovrebbe essere una validissima prova che il disco è ad Anna Capri. A me va benissimo. Comunque, per farla breve, ancora una volta, la questione del disco da trovare, dacci una mano, va distrutto, è ottenuto nel museo a Capri, eccetera, eccetera. Poi ci viene dato appuntamento con lui alle 15.45 ed in più ci vengono indicate altre due persone da incontrare con vie e numeri. Quindi partiamo per questa nuova, emozionante avventura alla ricerca dei vicoli del paese. Vi anticipo che questa nuova ricerca è durata veramente tanto come al solito del resto e come mi sarei aspettato dopo l'esperienza dell'altro gioco. Ma non avrei mai immaginato che rispetto ai misteri di Capri qui sarebbe stato ancora più un inferno. Tanto per cominciare, le vie percorribili sono davvero tante e fino alla fine vedrete che il paese dove stiamo girando è soltanto la punta dell'iceberg. Giusto per farvi un esempio, la chiesa di San Michele. Ora, trovandosi davanti alla chiesa, ti aspetteresti un quadratino da poter cliccare e entrare. Invece ce ne sono due perché possiamo scegliere se entrare da destra o da sinistra ed entrambe le direzioni convergeranno alla navata centrale. Stessa cosa per le varie piazze oppure ogni cosa che non sia una via stretta del centro storico. Abbiamo quasi sempre più possibilità di percorso all'interno delle stesse strade e questo sarà un casino perché un conto è che chi ci gioca si è abituato a vedere quei posti e li riconosce. Un altro è vederlo solo tramite foto per uno che Anacapri proprio non la conosce. Magari una via sì, ma a un certo punto ti diventerà familiare, però vedendolo al contrario ti sembrerà un'altra e così via. Però vi giuro, se dovessi andare ad Anacapri sicuramente saprei già come muovermi un minimo. Dopo un po' di tempo troviamo finalmente la casa di Francesco Cerio, una delle due persone da incontrare. Ma come vuole la regola della serie Capri, nessuno ci vorrà mai dare veramente retta. Quanto meno però chiunque ci regalerà dialoghi e photoshoppate di altissima qualità. Buongiorno, meno male. Stavo per andare via. Temevo di non poterla più aspettare. Il dottore Orlandi le dovrebbe aver già consegnato la targhetta di marmo, non è vero? Ha avuto modo di darci un'occhiata? Come avrà notato, l'incisione fa riferimento al luogo dove il disco sarebbe nascosto. Sulla targhetta si legge dove tutto ebbe origine. Ieri, Orlandi ed io, abbiamo discusso a lungo ed abbiamo concluso che tale frase debba necessariamente riferirsi alla grotta delle Felci. Perché, dice? Ecco, anni fa il mio illustre prozio Ignazio Cerio. Vabbè, ve la faccio breve io perché questo monologo dura qualcosa come tre minuti e passa. Francesco Cerio e il dottore Orlandi pensano che qualche indizio potremmo trovarlo alla grotta delle Felci. Nella cassetta ci hanno lasciato inoltre il diario di un suo prozio, archeologo, in cui ci sono tutti i suoi studi sul disco di Ossidiana e poi, cosa molto importante, anche questo molto Amarcord. Ah, dimenticavo. Le ricordo che la moneta locale qui ad Anacapri è il caprino. Se dovessi avere bisogno di liquidi c'è un bancomat nell'intorno di Piazza Vittoria. Gli ho lasciato una carta di credito tra le pagine del diario per sua convenienza. Figo, un totale sconosciuto ci dà una carta di credito che possiamo utilizzare tranquillamente sui bancomat di Anacapri. C'è solo un unico grande però ma lo vedremo a tempo debito. Comunque, parentesi, è bellissimo che la foto e la posizione di Francesco Cerio cambi in continuazione come se una citofono si spostasse ogni 10 secondi. Tra l'altro, impose che non ti aspetteresti per uno che ti risponde col videocitofono di casa con gli occhiali da sole per giunta. Quindi, mettiamoci alla ricerca del secondo indirizzo riportato nella lettera. Come sempre, parte un tour senza fine per Anacapri e i suoi abitanti, tra cui il vecchio col giornale che si lamenta di tutto. Mi faccio tante risate. Ma lei l'ha letto il giornale di oggi? No. O sa che furono tanti a cercarlo questo disco in passato e nessuno l'ha mai trovato. E adesso che dicono sul giornale? Che lo troveranno tra breve. Ma che sprovveduti! Tenga, legga pure quante sciocchezze scrivono oggi sui giornali. La verità è che il disco non potrà essere mai trovato. Rimarrà per sempre una macchia per quest'isola e per l'umanità intera. Prendiamo il giornale e cominciamo ad apprendere tutta la lore riguardante questo cacchio di disco. Notare, tra l'altro, la pubblicità modiano, molto sud Italia e del giornale come accade in giochi investigativi o vecchi punteclicca non è che viene riportata qualche frase o il sunto della questione ma avremo in mano tutto il giornale dalla prima all'ultima pagina dove verranno ripetute a raffica le stesse identiche cose che stiamo leggendo e ascoltando dall'inizio alla fine. Il disco si trova ad Anacapri dobbiamo trovarlo si finisce nelle mani sbagliate alla fine un tal archeologo di nuova dragua accusato di corruzione si pensa voglia mettere mano sul disco per motivi poco chiari pareri di vista di vari esperti locali eccetera eccetera roba da rubarti un mare di tempo insomma continuando a girare per il paese ci troviamo anche davanti a un negozio di elettrodomestici dove casualmente partirà un notiziario che parla casualmente solo del disco d'Ossidiana e abbiamo il solito Francesco Cerio che poco prima abbiamo visto al giornale che ancora prima abbiamo sentito al citofono e ora abbiamo al telegiornale sono passati ormai tre giorni dal ritrovamento in Anacapri della misteriosa targhetta di marmo datata a inizio 800 ma l'interesse non sembra diminuire a sentire il signor Cerio pronipote dell'illustre archeologo Ignazio Cerio autore dei famosi scavi del 1882 presso la grotta delle Felci la scoperta è sensazionale sentiamo le sue parole questo ritrovamento ci fa finalmente capire con chiarezza che il leggendario disco di Ossidiana a lungo cercato da molti in passato ma mai trovato esiste ed è ancora sull'isola allora ce ne dire una cosa nelle prime tipo due ore di gioco viene fatto un lavaggio del cervello continuo sempre delle stesse info sempre delle stesse notizie che tra l'altro dovrebbero rimanere segrete ma sanno tutti vengono riportate anche in televisione molti però non sono di questo avviso e credono seriamente che il ritrovamento del disco potrebbe portare nuove sventure ad Anacapri e alla sua gente è quello che sostiene il signor De Angelis negoziante è vero infatti io e la mia famiglia stiamo seriamente considerando di lasciare l'isola siamo convinti che presto inizierà un periodo buio torneremo quando tutta questa brutta storia sarà finita il signor De Angelis non è il solo ad avere queste preoccupazioni negli ultimi tre giorni 106 persone si sono già trasferite altrove il primo cittadino di Anacapri il dottore Orlandi invita a riflettere sentiamo il suo portavoce sono solo fandonie la leggenda del disco deve essere presa come una storia di colorita fantasia e la gente non deve saltare a conclusioni affrettate credetemi mi sono sentito un cretino ad aver letto tutto il giornale quando poi due minuti dopo avrei sentito le stesse identiche cose dalla televisione ma poi sempre riguardante sta roba puoi andare in qualsiasi negozio da qualsiasi parte e dico tutti tutti ti stanno a parlare del disco d'Ossidiana acclamandoti come salvatore del mondo o di Capri ed unica speranza dell'umanità che poi la cosa bella è che tutti stanno a parlare di sciagure male ma all'atto pratico non si riesce a capire che poteri abbia questo maledetto disco né tantomeno che tipo di sciagure possa portare è roba da farti impazzire andiamo finalmente a trovare il secondo personaggio segnalato da Orlandi per fortuna questa in poco tempo dato che la casa è facilmente riconoscibile Giulia McCowen pronipote del colonnello John McCowen ufficiale confederato che acquistò diverse proprietà a Capri tra cui la casa rossa dove troveremo la nipote donna disponibile e personaggio chiave del gioco sì desidera cosa non credo di poterle essere di aiuto anzi credo che non abbiamo proprio nulla da dirci sì ma fammi parlare mi faccio la cortesia di lasciarmi in pace addio bitch ma non ho fatto niente vabbè lasciamo stare allora e andiamo avanti e cosa si fa in questi casi quando qualcuno in questo gioco è occupato o ci manda a cagare visitiamo a caso altre viuzze del paese tra cui il negozio di ceramiche dove veramente a queste persone voglio veramente un mondo di bene vorrei visitare il museo però è veramente irritante quanto non ci sia il minimo sforzo nel recitare un minimo e non far capire così palesemente che si sta leggendo un testo scritto da altri trasformiamo concetti in forme colorate realizzate in maiolica è un lavoro difficile che richiede molta dedizione ha mai visitato il nostro piccolo gioiello tutta l'isola di Capri in miniatura e di là vada a vedere ci sono raffigurazioni della storia e delle tradizioni di Capri con riferimenti alla leggenda del disco di Ostiniana finiamo il giro di tutte le teche disponibili uno sguardo veloce all'ultima photoshoppata ignorante della tizia di fianco al muretto che dopo aver detto la sua frase svanisce nel nulla poi ricompare magicamente all'interno del laboratorio dove a caso ci dà una mattonella che dovrebbe aiutarci nella ricerca del disco di Ostiniana e torniamo subito per strada buongiorno vuol sentire una bella canzoncina Caprese tutto bello però mi proponi la canzone Caprese e poi in inglese però vabbè andiamo avanti andiamo a vedere questo negozio di profumi qualcosa mi dice che ci devo entrare salve l'ho vista sul giornale di ieri sa spero proprio che riuscirà a trovarlo questo disco di Ostiniana nel caso non dovrà essere conservato qui ad Anacapri ma lontano e forse anche distrutto non abbiamo bisogno di altre sciagure qui nell'isola vogliamo stare tranquilli noi ecco tenga questo profumo è un regalo avete presente il ritorno al futuro 3 quando Marty McFly viene sfidato a duello da Tannen e tutti quanti in paese cominciano a fargli gli auguri a fargli regali perché probabilmente schiatterà in Anacapri succede la stessa identica cosa dove appunto tutti sanno che sei venuto a fare qual è la tua missione e di tanto in tanto qualcuno ti regala qualcosa ma tra tutti gli incontri fatti in questa fase definibile ancora come early game il tizio più ambiguo e inquietante è senza dubbio il calzolaio so chi sei sei qui per il disco ma anche per trovare delle risposte più importanti non fidarti troppo di quello che appare vedi questo sandalo l'ho fatto con le mie mani prendilo è frutto di una lunghissima esperienza anche questa come il sandalo è illusione solo se saprai ascoltare le parole di Axel Monte troverai il modo per interpretare l'illusione e avvicinarti alla verità attraverso la conoscenza alla fin fine diciamolo sono tutti un po' filosofi mancati anche quando analizzeremo il sandalo sparirà anche lui così a caso e poi c'è lei buongiorno scommetto che è passato di qui per provare il nostro famoso liquore a base di limoni non è vero? e tu che dici sorella vendete solo quello si chiama limoncello è una delle nostre specialità quanto mi dispiace abbiamo finito le scorte torni più tardi potrebbe avere maggiore fortuna fake cioè sei piena di limoncello perché devi comportarti così con me? vabbè decido di continuare il giro per il paese quando finalmente riesco a uscire dalle viuzze e finalmente vedo il mare con una bella strada che costeggia il panorama fortunatamente a senso unico però camminando nel silenzio di tomba del gioco a un certo punto mi sono trovato in un punto diciamo vagamente inquietante ok forse è meglio che ce ne andiamo di qui tornando in paese vicino al bar iniziale trovo finalmente un bancomat dove penso si possa prelevare con la carta in nostro possesso notare come sempre la sobrietà del fascino del bancomat con i caprini e tutti i vari dettagli con i quali è stato vandalizzato questo povero sportello ecco diciamolo allora da questo momento in poi cominceranno serissimi problemi per la mia partita e fortunatamente più avanti vi spiegherò come comincerò a risolvere l'icona di tutti questi problemi la prima icona è rappresentata dal bancomat di anacapri prima di tutto questo non è un bancomat dei caprini e basta ma è anche un bancomat della smorfia perché non avevamo tenuto conto che una volta inserita la carta dovremmo anche inserire il pin e quando sbaglieremo cioè immaginatevi dal vivo quanto può essere desolante una cosa del genere cioè tu vai al bancomat non dico magari sbagli il pin ma non lo so inserisci il pin corretto e non hai soldi ti arriva una risata così in faccia giuro probabilmente è una delle cose più deprimenti che ti possano capitare i 20 minuti successivi sono stati impiegati non solo per riesaminare tutti gli oggetti in mio possesso ma anche per ricontrollare tutto quello che avevo registrato per paura di aver mancato il punto in cui mi veniva comunicato il pin ma niente non riesco a capire quale cacchio possa essere il codice abbandono tutto e continuo desolato a girare per le vie di Anacapri tanti sono gli anni che abbiamo vissuto what the fuck allora questo è uno dei dialoghi più esilaranti per i più svariati motivi il primo è che abbiamo un testo degno di un adattamento di cannarsi per quanto sia forbito nei dialoghi ma se le cose male andarono non fu colpa del disco che infinita scienza recava dentro di sé quanto invece dell'uomo che malseppe tale scienza gestire poi è bello che ogni tanto partono colpi di tosse qualche errore di punteggiatura e roba così avido e insaziabile se il disco ritrovare vuoi long story short la tartaruga è una specie di spirito guida caprese che intende aiutarci nella ricerca e distruzione del disco di ossidiana a quanto pare forgiato dagli dei e lasciato sulla terra quando su quest'isola un meraviglioso disco dal cielo precipitò furono gli dei a forgiarlo e spedirlo qua giù praticamente la stessa cosa di Death Note in quanto il disco negli anni è stato usato per fare del male insomma la tartaruga pare non sia l'unico spirito che incontreremo durante la nostra strada e dopo questo incontro casuale altri giri a vuoto perdendosi tra le vie solo che a un certo punto parte una musica in genere è sempre buon segno infatti troviamo lo studio del dottor Adrawa il famoso tizio di cui si parlava sul giornale sapete quello corrotto quello che conduceva i lavori a Capri e così via andiamo a fare sua conoscenza introducendoci liberamente in casa sua buongiorno è ad Anacapri per ritrovare il disco vero? certo non posso nascondere il mio interesse per la cosa essendo un antiquario oh ma tutti quanti sanno che sono qui ad Anacapri e cerco il disco insomma nel dialogo non ci viene detto altro che le solite cose cioè eh ma il disco è sacro va trovato io pure lo cercao e così via però prima di chiudere il dialogo veniamo anche a sapere un'altra informazione tenga presente che sono molto interessato alle monete antiche se ne trova qualcuna me la porti le pago bene del resto lei sa il danaro torna sempre utile adesso stando i miei appunti da questo momento in poi sono passate quattro e dico quattro registrazioni dove non è successo nulla sono stato a girare mi sono ritrovato davanti alle solite case ai soliti citofoni davanti alle solite persone che hanno da fare che se ne devono andare alle tartarughe e così via l'unica cosa di utile che ho scoperto tra l'altro in grado di essere errape in maniera molesta anche questa è che abbiamo in qualche modo sbloccato il fast travel per i punti di interesse principali e vi giuro vi giuro su ogni cosa se in questo gioco non ci fosse stato il fast travel non tanto adesso ma più avanti probabilmente per finirlo non sarebbero bastate 40 ore piene di gioco mosso a disperazione compio uno dei gesti più disperati che si possano commettere in questo caso quello di un gioco dove avremmo giocato soltanto io gli autori e qualche loro amico prova ad andare su google e scrivere Anacapri the Dream soluzione ebbene che ci crediate oppure no online esiste la soluzione completa di Anacapri the Dream l'ho trovata su Adventure Planet che è un portale italiano che riporta tra le varie cose anche le soluzioni delle avventure grafiche e in quel momento credetemi mi sono sentito davvero un miracolato mi sono sentito baciato dalla fortuna ora detto questo andiamo a vedere cosa andava fatto in questo punto in ordine di follia vi ricordate la via lungo il mare che conduceva in quella camera oscura dove dentro vi era Giulio Cesare e qualche demone assetato di anime capresi bene senza apparente motivo nella cornice prima dell'ingresso va applicata la cartolina che abbiamo fregato a caso sempre a caso nel negozio di souvenir la cartolina rappresenta la scala fenicia e infatti inserendola faremo comparire la scala bene partiamo per la nostra bella salita una salita che non finisce mai una salita delle quali non si riesce a trovare la fine non credere non credere non credere non credere troppo in quello che vedi ciò che appare è solo illusione tuttavia l'illusione è indispensabile per capire le cose a fondo per ottenere la conoscenza il percorso che ti attende sarà lungo e faticoso ma alla fine sarai una persona nuova e migliore vai oltre il cancello della chiesa non lontano dalla tartaruga e suona la campana solo così potrai passare da illusione a realtà e ricordati di usare le dieci regole se vuoi trovare un senso nel mondo dell'illusione io stanotte devo dormire senza il minimo fascio di luce in camera perché probabilmente mi comparirà quest'ombra dicendomi che sto vivendo in un'illusione penso dormirò con la faccia sul cuscino raggiungiamo la chiesa che l'ombra ci ha indicato anche perché non abbiamo molti altri posti dove andare giunti al luogo che un pochino mi rassicura in quanto vi è anche questa grossa statua in bronzo di padre Pio a vegliare su di noi non possiamo non notare la corda collegata alla campana ma dove sono? che cosa è successo? tolto il fatto che mi ha divertito molto che l'accesso a questa scena avviene praticamente nella stessa identica maniera che abbiamo visto in control per arrivare all'overview hotel dove devi trionare praticamente tre volte la corda cioè è la stessa identica cosa vi spiego io in breve che cosa succede perché all'interno di questa casa troveremo davvero tanti 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 documenti quindi un riassunto è necessario in sostanza fino ad ora abbiamo vissuto in un cosiddetto sogno indotto diciamo quasi un'esperienza vissuta tramite sogno all'interno del quale potremo agire e compiere delle azioni come abbiamo sempre fatto del resto scopriremo tramite prescrizioni mediche appunti ed altro che esistono queste famose dieci regole per lo sciroppo dei sogni sciroppo con la fotografia di freud stampata sopra che troveremo sul nostro comodino in sostanza si può capire che il mondo dei sogni e il mondo reale sebbene siano due luoghi diversi condividono qualcosa tra di loro e molte delle persone che nella vita reale esistono o solo esistite all'interno del sogno possono assumere forme diverse alcuni suoni della realtà possono essere sentiti nel sonno lo sciroppo ci farà addormentare all'istante ci farà riprendere il sogno dove l'avevamo lasciato e poi tutto il resto diciamo che resta più o meno poco importante all'interno dell'abitazione in cui ci troviamo scopriremo foto e della corrispondenza tramite lettera tra di noi e una coppia di persone Adriano e Mirta che a quanto pare vengono a trovarci ogni estate ma non è ancora chiaro il grado di amicizia tra noi e loro oltre a questo scopro che siamo rinchiusi nella stanza e che questa può essere aperta inserendo soltanto un codice che al momento pare non abbiamo a questo punto non ci resta nient'altro da fare che ingurgitare lo sciroppo in uno stile che ricorda molto quello di Trainspotting e torniamo alla chiesa di Padre Pio con grandissimo Erreip recuperiamo questa campana ci consentirà di poterci svegliare a piacimenti in ogni punto in ogni momento e con questa insieme allo sciroppo e al fast travel adesso siamo invincibili però adesso ci ritroveremo a un punto di svolta del quale non vedevo l'ora di rendervi partecipi allora da questo momento in poi cominceremo a prendere i pullman quindi avremo bisogno di soldi per il biglietto per avere i soldi dovremmo prelevare dal Bancomat e adesso vi mostrerò soluzione alla mano ovviamente come una persona sana di mente una persona sana di mente sarebbe dovuta risalire al pin della carta allora sul Bancomat di Anacapri tra i tanti adesivi da quarantenne che possiamo trovare un po' ovunque nel gioco ci sarà anche quello del maialino salvadanaio caratteristico di ogni cosa che ha a che fare con i risparmi bene secondo gli autori del gioco noi dovremmo tornare nella realtà dare un'occhiata in giro notare sulla scrivania tra i vari oggetti che ci sono che c'è un maialino non evidenziabile tra l'altro sta lì in un angolino e lì in un angolo dell'inquadratura sopra di esso vi è incisa la parola Piggy giustamente maialino Piggy dal quale avremmo dovuto dedurre che il pin della nostra carta è 14449 in quanto Piggy col tastierino numerico richiama i tasti 14449 ditemi una persona sana di mente come sarebbe dovuto arrivare a questa soluzione accediamo al conto e preleviamo minchia tantissimo gli unici dieci caprini disponibili dopodiché spendiamoli subito per acquistare un pass autobus valido dal paese fino a marina piccola e qui conosceremo l'autista una delle persone al quale ho voluto più bene durante le mie giocate ad Anacapri oltre a farsi tutti i fattacci nostri per tutta la durata dei viaggi non si sentirà un cacchio perché il bordello del motore non ci farà ascoltare bene le parole del buon uomo ma anche qui dato che gli autori non vogliono sapere di mandarti velocemente da un punto all'altro dell'isola ma i sia anche con il pullman dovremo percorrere la strada metro per metro guidando direttamente noi il pullman fino a destinazione Conosce Massimo i bagni da gioia? No? Allora deve andare a salutarlo è un tipo interessante un po' filosofo un po' poeta Ok è il matto che fa il caso nostro infatti è proprio da lui che ci dirigeremo e qui vi introduco uno dei personaggi più importanti e vagamente non saprei se definire inquietante o minaccioso Bella giornata vero? Mi chiamo Massimo mi fa piacere che sei venuto so chi sei e cosa stai cercando gestisco questo bar da più di 5.000 anni so tutto della legge mi immagino sempre lui col suo baracchino però piazzato nel 3000 avanti Cristo a vendere estate e chipster scusate ho avuto queste immagini in mente comunque questo tipo un po' filosofo appunto dice che sa già tutto chi siamo che vogliamo stiamo per andare a vedere la grotta delle felce troveremo uno spirito lui conosce tutto sul disco di Ossidiana i fatti di tutti a conclusione di ciò ci dà alcune pagine mancanti del diario del prozio di Francesco Cerio e ci esorta a tornare da lui di tanto in tanto per avere nuove informazioni li ho conservati con cura in attesa della tua venuta amen andiamo avanti la parte successiva provo a riassumere in breve perché mi è stato un pochino difficile capire la logica con il quale siamo andati a compiere determinati gesti tanto per cominciare occorrerà perdersi nelle stradine di campagna sperdute di Marina Piccola dove troveremo un enorme scultura in legno di un rettile sotto il quale ci sarà da comporre una sequenza la stessa riportata nelle pagine del diario che ci ha dato Massimo Albar facendo ciò aiutati dai soliti suoni del flipper di Windows 98 troveremo dei pezzi di ossidiana analizzando queste pietre potremo notare che ognuna corrisponde a un animale la prima da utilizzare sarà Marina Piccola dove dovremmo incontrare il primo spirito senza che nulla ci abbia indicato esattamente cosa dovremmo fare troveremo un cannocchiale puntato non sul panorama del mare ma sull'interno guardandovi attraverso potremo vedere spuntare quel che sembra una lucertola allora dovremo posizionare l'ossidiana della lucertola davanti alla tana e quindi utilizzare di nuovo il cannocchiale sono lo spirito dello sciamano della tribù che 7000 anni fa dominò queste terre ci riuscì grazie al disco di ossidiana madò che ansia di doppiaggio ma in questo straziante monologo ci verranno dette tra l'altro sempre le solite cose stai cercando un disco d'ossidiana io so tutto ma lo sai che una volta la gente si ammazzava per averlo ma lo sai che gli uomini sono stupidi e lo usano per fare del male ma lo sai che io lo sto cercando però questa volta almeno otteniamo qualcosa di utile le indicazioni per trovare un tassello che servirà per la ricerca del disco questi tasselli ci verranno indicati da tutti i vari spiriti ma vi garantisco che per trovarli uno alla volta ci metteremo veramente un fracasso di tempo ok da questo momento in poi iniziano tutte le vere parti allucinogene di questo gioco tanto per cominciare occorrerà farci scorrazzare in barca con uno degli arrivi al molo più dinamici che abbia mai visto buongiorno salga prego sono sua disposizione per farle fare un bel giretto costa a costa qui intorno si possono fare strani incontri ma non tema è in buone mani durante il nostro tranquillo giro in barca vedremo tanti posti e trovandoci a Capri ovviamente ci toccherà dare un'occhiata ai faraglioni ma sinceramente non mi aspettavo che girare in barca da quelle parti potesse essere al pari di un trip salve giovanotto bella vista da qui ma che ecco a voi Poseidone cioè uno screenshot del tipo in barca di prima dove gli hanno appiccicato una corona e il tridente e indovinate di cosa parlerà fammi leggere nei tuoi pensieri adesso capisco sei qui per quel disco di Ossidiana Aridaie anche qui si parla di altri personaggi storici che hanno avuto il disco e hanno combinato casino e dopo questo incontro riusciremo a capire come trovare lo spirito del delfino il secondo che abbiamo trovato sempre sui vari pezzi d'Ossidiana qui niente da dire se non che potremo trovare i primi due pezzi di un oggetto che ci servirà per concludere il gioco entrambi entrambi li troveremo nella grotta delle felci ma quando pensavo che la missione fosse finalmente compiuta ecco lo sapevo mai fidarsi delle sirene è uno dei loro soliti malefici truppi prima ti ammaliano e poi ti incastrano come polipi nelle nasse spero che lei troverà il modo per tirarci fuori da questo intruccio ho una famiglia da mantenere io bisogna correre ai ripari siamo bloccati in barca l'unica cosa che ci resta da fare è controllare l'inventario notando che su entrambi i pezzi dei tasselli appena trovati ci saranno dei simboli a questo punto ci sarà da suonare la campana e svegliarci andare ad aprire la prima porta della stanza all'interno della quale siamo chiusi oltre le tante lettere che vi troveremo come sempre avremo anche un messaggio in segreteria da parte di Mirta sono Mirta Adriano mi ha detto che hai un appuntamento con lui domani alle 11 dice che è sicuro di riuscire a convincerti e che alla fine glielo consegnerai ti supplico pensaci bene non credo che potrei accettare mai questa tua decisione ma d'altronde sai benissimo come la penso quindi inutile sprecare parole in sostanza stando alle lettere capiremo che noi abbiamo qualcosa che non dobbiamo consegnare ad Adriano ma non sappiamo ancora cosa risparmiandovi troppi giri nella lore che trasuda tra queste quattro mura ci soffermeremo su un cd che troveremo sotto il televisore best of orfeus mettiamo la musica nel lettore osserviamo la foto sul camino che è quella del tizio in barca che è quella di poseidone che è quella di nostro zio a quanto pare del quale probabilmente non esistono foto migliori di quella che vengono utilizzate dal 1998 droghiamoci di nuovo con lo sciroppo e proviamo a tornare nel piano dei sogni madonna che ansia però dopo esserci liberati mi viene in mente una cosa i codici che avevamo sulla stele erano due quindi nel mondo reale potrei teoricamente aprire un'altra porta quindi suoniamo di nuovo la campana e andiamo a vedere che c'è nell'altra stanza come sempre abbiamo un telefono con rispettiva segreteria telefonica sono Mirta Adriano mi ha detto che hai un appuntamento con lui domani alle 11 dice che è sicuro di riuscire a convincerti e che alla fine glielo consegnerai ti supplico pensaci bene non credo che potrei accettare mai questa tua decisione ma d'altronde sai benissimo come la penso quindi inutile sprecare parole ma è lo stesso messaggio di prima anche questa volta troveremo tantissime e credetemi con tantissime intendo proprio tantissime lettere sullo scrittoio prima di quelle noto anche il bigliettino dell'invito al matrimonio di Mirta e Adriano che porca miseria studiando questi due tipi per le continue lettere che saremo costretti a leggere dove entrambi ci continuano a riportare come procedono i lavori di una ricerca alternati da lettere dove ci si ricorda come è stata bella l'estate insieme ad Anna Capri l'anno scorso e due anni prima e tre anni prima fino a quando praticamente erano bambini in particolare in questo punto non ci sono due o tre paginette di lettere ma ben una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici pagine da leggere caro Nico perché non rispondi più alle mie lettere ho l'impressione che vuoi evitarmi l'ultima volta che ci siamo incontrati hai detto che comprendevi il mio punto di vista ed eri d'accordo che fossimo restati solo amici forse non pensi più così caro Nico sai chi mi ha chiamato le tue parole appassionate la sua telefonata è giunta del tutto inaspettata e mi è invitata ad una gita in campagna in questo weekend mi ha fatto molto più da essere il lavoro per il giornale mi ha detto che potrebbe aiutare ehi fermo fermo aspetta un attimo ma quindi Mirta sta mettendo le corna ad Adriano con noi drama e in effetti salta fuori che fanno dapprime separati in casa e poi si separano completamente e tra le tante bugie giochetti tradimenti casini nuove società di ricerca lavori viaggio a capri Napoli ed intorni capiamo che c'è qualcosa che io e Marta non dobbiamo assolutamente dare ad Adriano le battute si sprecano previtiamo però comunque al momento c'è qualcosa di molto più importante ad aver attirato la mia attenzione controllando i cassetti nello scrittoio trovo prima un bel mazzo di carte napoletane e nel secondo non mi dire che se premo on ciao ragazzi ci vediamo domani ciao ho volato ho volato credetemi ho ricontrollato pure i video che ho registrato sono rimasto a giocare a scopa tipo mezz'ora di fila dopo essere tornati in me ho dato un'occhiata veloce alla stanza e dopo foto con vari tipi di soggetti collezioni di dvd più o meno reali e qualche dettaglio piazzata a destra e manca torniamo nella nostra Anacapri dal nostro massimo bene bene stai facendo grandi progressi adesso non posso più aiutarti le ricerche dovranno continuare laddove non ho più controllo ti posso solo dare questa cartolina rappresenta la scala fenicia con i suoi vetusti scalini ti condurrà verso una nuova fase più vicina alla verità e quando avrai trovato tutti e cinque i tasselli torna a farmi visita ed è in questo momento che finalmente possiamo riassaporare tutte quelle emozioni che ci ha già dato i misteri di Capri 2 la scala fenicia è l'essenza della frustrazione 132 fotografie di scalinate da affrontare con altrettanti click per scendere questa scala infinita che ci porterà all'interno di alcune viuzze che dovremo percorrere a piedi per intero uno strazzo incredibile a discapito dei panorami fantastici che avremo intorno durante la nostra discesa troveremo un anello e un libro delle costellazioni come sempre accompagnati da suoni del flipper di Windows arrivati alla fine giungeremo una specie di schermo che troveremo incastonato nel muro e non appena oh Gesù aspettavo la tua visita sono la statua di Augusto imperatore di Roma fui collocata qui quando questa villa fu costruita da Augusto stesso egli fece decorare queste mura con splendidi marmi imponenti statue e preziose scupole tra queste vi era un bellissimo disco di ossidiana detto in breve recupera le braccia della statua e ti aiuterò poco più avanti incontriamo il terzo spirito quello del serpente ovviamente you died l'ho aggiunto io perché ci stava troppo bene in quel momento torniamo sempre dal serpente ma questa volta diamogli la sua pietra d'ossidiana e otterremo nulla questo serpente non parla né indicazioni su come trovare gli altri tasselli che ci servono anzi vi dirò di più dopo questa sequenza sono stato tipo ore a girare per tutti i luoghi del gioco perché non avevo la minima idea di cosa si dovesse fare e infatti la mossa successiva non era per niente scontata bisogna girare a caso trovare un punto preciso della spiaggia dobbiamo andare avanti finché possiamo dobbiamo guardare per terra dobbiamo guardare bene per terra osservare i ciottoli spostarne qualcuno in punti dove non si capisce dove bisogna cliccare così a caso in mezzo ai ciottoli troveremo una moneta antica perché con la moneta andiamo subito da Drawa che se non ricordo male avrebbe comprato da noi le antiche monete trovate in giro quindi andiamo a vedere questo pezzo più unico che è raro quanto vale buongiorno che vergogna ma le legge i giornali ognuno dice la sua su questo quello sul tempo sulla leggenda del disco si ma andiamo al dunque qualche miseria fu rinvenuta una quantità incredibile di statue e marmi di epoca romana ebbene sono stato io a salvare tutto dallo scempio degli isolani ho asportato gran parte dei reperti e li ho nascosti senza il mio intervento gli isolani avrebbero distrutto fino all'ultima lastra di marmo insomma a Drawa giustamente si lamenta del fatto che lui sta facendo di tutto per preservare il patrimonio artistico e archeologico dell'isola e la gente gli dà addosso dandogli del corrotto e del prepotente mezz'ora di pippone su quanto sia figo lui e cozzale i capresi che bella moneta vediamo bene bene è originale è di ottima fattura pure la vende le posso dare dieci caprini è un affare le assicuro ma scusa bella rara tutto così ecco là tutta la sviolinata dieci caprini ma ne voglio mille almeno me ne porti altre se le capita di trovarne si ti porto altre monete sta gran ceppa con i dieci caprini facciamo l'unica cosa che possiamo fare in Anacapri the Dream comprare un nuovo biglietto per il pullman per una nuova destinazione adesso si parte alla volta della famosissima grotta azzurra con la macchinetta che a tratti mi ha dato vagamente di Filthy Frank con la sua traduzione stile please give me dieci caprini please andando verso la fermata dell'autobus noto che la porta della casa rossa quella della residenza MacCowen è finalmente aperta quindi suppongo che possiamo dare una sbirciata senta come si è permesso di entrare senza nemmeno bussare ma non c'era la porta vada via sono stata chiara via non desidero essere disturbata per nessun motivo dopo qualche secondo realizzo cosa è successo per sbaglio ho premuto spazio il tasto che premerà all'istante la campanella per svegliarci senza farci caso ho rotto inconsapevolmente il salvataggio essendo passato al mondo reale durante un dialogo l'effetto dello sciroppo è diventato nullo costringendomi a rimanere bloccato all'interno della casa dove abbiamo dormito a quel punto la domanda che qualsiasi giocatore ha sempre paura di porsi in questo momento quando è stata l'ultima volta che ho salvato buongiorno meno male stavo per andare via rifaccio tutto da capo due ore di gameplay buttati nel cesso tutto questo per tornare a farci insultare di nuovo dalla nipote del colonnello che fastidio io ci ho provato ad entrare alla casa rossa ma Giuliano mi ha voluto aprire vabbè tanto si tratta di una basic bitch conosco io il modo per farla calmare ha trovato un anello mi faccio un po' vedere è proprio il mio anello e dove l'ha trovato l'avevo perduto alcune settimane fa visto bastava poco mio padre costruì questa casa tra il 1876 e il 1898 è bella vero mio padre amava il rosso come vede ma confondeva gli altri colori per esempio il blu con il verde e viceversa anche il viola con il giallo e viceversa sono cose che capitano no? no mio padre aveva lobby dell'archeologia rinveniva nell'isola frammenti di statue colonne marmi bene adesso è giunto il momento di tornare sui nostri passi sulla strada alla volta della grotta azzurra insieme al nostro amico come sono contento di rivederla domivo che avesse lasciato l'isola e abbandonato l'impresa e invece eccola qua fateci caso una cosa per evitare di mostrare sempre la stessa foto dell'autista l'hanno a capovolta in maniera tale da dargli al pullman questa guida inglese sulla destra però vabbè è un piccolo dettaglio però c'è andiamo avanti evito di farvi vedere quel che succede nella prossima ora di gioco perché è una palla incredibile dovremo andare in giro per un parco a collezionare indizi e risolvere qualche indovinello molto semplice come sempre perdendoci nelle mille mila foto che sono state scattate fino a quando non troveremo nuovi indizi per andare avanti nuove pagine del maledetto diario di cerio e finalmente riusciremo anche ad avere un contatto per ottenere una barca per accedere alla grotta azzurra ma prima dovremmo fare i conti col riccio chi cacchio è il riccio? oh siete voi quello che sta cercando il disco eh? il dottor Orlandi mi ha chiesto di mettervi a disposizione una barca per entrare nella grotta azzurra dice che siete un tipo molto intelligente e voglio proprio vedere fin dove arriva la vostra scienza facciamoci una bella partita scopa madonna si se vincete voi vi faccio preparare la barca subito subito ma se vinco io preferisco non sapere che fine potrei fare se dovessi perdere comunque penso di aver bisogno di un po' di sciroppo direi che è il caso di prendersi una pausa guardate migliore occasione per dirvi usate la maledetta campanella dato che in molti vi state lamentando sul fatto che non vi arrivano i feed perché qui finisce la prima parte di Anacapri The Dream vi aspetto per la seconda parte tra qualche giorno di Anacapri The Dream